L'Europa fra 50 anni sarà più unita, anche se sarà più stretta. Sarà un'Europa a due cerchi, sarà un cerchio stretto attorno ai paesi che l'hanno fondata, attorno ai paesi che oggi hanno l'euro, e poi ci sarà un cerchio più largo, guidato su un lato dalla Gran Bretagna, sull'altro lato dalla Turchia. L'Europa stretta, l'Europa del nocciolo duro, l'Europa dell'Euro, sarà un'Europa che avrà bisogno di istituzioni comuni elette politicamente dai cittadini con una campagna elettorale nella quale sceglieremo un presidente dell'Europa e lo voteremo direttamente, perché ogni cittadino europeo vorrà contare in questa decisione e soltanto così si potrà evitare che si vedano le istituzioni come lontane. Grazie 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 Grazie